ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo speed build finalmente nel nuovo scenario non vedevo l'ora e dovevo assolutamente creare una zona residenziale anche se poi nella mia partita l'ho messo come lotto in affitto perché volevo appunto portarci le mie famiglie personali ma anche quelle del gameplay e volevo una zona molto più decorata molto più curata nei minimi dettagli perché gli altri lotti sono molto basic come giusto che sia e spero davvero vi piaccia io ci ho passato tantissimo tempo e vedrete specialmente che nella zona giardino mamma mia quanto tempo ci ho trascorso volevo creare un angolo relax con vasca idromassaggio poi volevo metterci la piscina poi la piscinetta ma alla fine mi sono messata però nel trailer si vedeva la zona zen e quindi ho voluto creare un angolo zen con questa fontana molto carina molto decorata e all'interno ci ho messo anche poi un tappetino per fare yoga e fare meditazione ovviamente non possono mancare panni da lavare e quindi la bacinella per lavare vocato e la corda per stendere secondo me sono tutte decorazioni che non ho benissimo il paesaggio circostante e soprattutto ragazzi sapete bene del problema che in seguito all'aggiornamento di novembre il gioco stavendo cresce di continuo veramente insopportabile e quindi ho dovuto salvare in maniera compulsiva ogni cinque minuti il gioco e la mia costruzione nella speranza di non perdere tutto io penso di averle tagliate tutte quelle parti però se vedete il schermato di caricamento di salvataggio è per questo motivo in ogni caso il lotto lo trovate in galleria con il nome originale e quindi il mio idd origin è sigismonda 32 numero dove trovate tutti gli speed beat di home tour che vedete sul canale ma soprattutto fatemi sapere se questo speed beat vi è piaciuto se è così lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io vi lascio la visione del video e ricordatevi di iscrivervi al canale ciao 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Ciao. 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 Grazie a tutti.